Luca, che succede? Stai bene? Sì, sto bene. Ora sì. C'era un sacco di fumo. Respira, calmati. Respira. Taccio. Taccio dove è? Non lo so. L'ho cercato. Dove? Non l'ho visto. Non lo so dove. Non lo so. Fatemi passare. No, fermo. No, non si può entrare, signora. C'è ancora un ragazzo. Qua dentro non c'è più nessuno. Abbiamo evacuato l'edificio. Si calma. In ospedale. Forse. Forse. In ospedale. Presto. Fate presto. Non perdiamo tempo. Avanti, avanti. Forza, muoviamoci. Veloci. Giù. Raga. Sì, ti sento. Ascolta, l'operazione è andata bene. Adesso lo stiamo portando in ospedale. Bene. A partire da ora non compilare la cartella clinica. Tony! Tony, Tony, Tony! Che succede? Tony! Che sta succedendo? Ossigeno, presto. Ossigeno. Passamelo. Victor, vieni, aiutami. Faccio io, faccio io, faccio io! Ha le convulsioni. No. Lo stiamo perdendo. No! Tony, lo stiamo perdendo. Non mollare. La vita cerebrale è oltre i parametri regolari. La rete neuronale? 370 su 30. Quanto hai il livello sinaptico? 590. Aumenta, Franca. Dobbiamo fargli due centimetri cubici di stimolazione corticale. Sì, ma... Devi farlo. Il telefono. Si è... si è stabilizzato. Adesso fai un esame del sangue da dare all'ospedale. Va bene? D'accordo. Ok, ma abbiamo rischiato grosso stavolta. Potevamo anche non farcela. Sì, lo so, Tony. Grazie per la precisazione. Portalo via da lì. Va bene. Lo trasportiamo subito. Andiamo. Un altro dei ragazzi feriti nell'incendio. Ok. È svenuto per inalazione di fumo. Bene, molto bene. No, aspettate. Io scappo perché... Sono Nicholas Power, tutt'ora del ragazzo. Taccio, come stai? Come sta? Mi sento un po' stordito. Ma sto bene. Guardami, Taccio, riesci a vedere? Sì, sì, ti vedi, ti vedi. Stai calmo, respira. Non ti preoccupare, ci sono io. Non ricordo niente. Tranquillo, stai calmo. Sei in ospedale adesso. Basta ora. Dobbiamo andare. Che succede? Ragazzi, per favore, così non siamo più. Stai tranquillo. Ti aspettiamo qui, Taccio. Fatemi passare. Siamo qui. Tranquillo, siamo qui. State calmi.